Circa la metà dei cittadini veneti che abbiamo intervistato ritengono che il fenomeno della mafia sia un fenomeno di secondo piano che in qualche modo non riguardi tanto la nostra regione tantomeno riguarda il luogo dove io abito dove io lavoro o dove io comunque faccio comunità benvenute e benvenuti a tutti io sono Antonio Massariolo e quest'oggi a Spieghiamo le mafie cercheremo di capire analizzare e capire qualcosa di più del tema della criminalità organizzata nel Veneto lo facciamo anche soprattutto grazie all'ospite che abbiamo qui con noi Roberto Tommasi referente regionale di Libera Veneto ciao ciao a tutti Roberto la prima domanda è d'obbligo è la più banale ma è sempre bene ribadirlo che cos'è Libera diciamo subito che Libera è un coordinamento di associazioni e di persone e di scuole quindi è una realtà molto molto complessa Libera nasce come associazione di associazione cercando di mettere insieme le grandi associazioni nazionali che volevano in qualche modo reagire alla stagione del sangue alla stagione delle stragi e però poi ha trovato lungo la strada un interesse vivacissimo da parte di tantissimi ragazzi e si è costituita in presidi presidi territoriali che possono aver sede presso un comune o un insieme di comuni o presso un'università o una scuola o un luogo di lavoro quindi è una realtà molto molto variegata insomma e a livello Veneto siamo organizzati appunto in questo modo abbiamo i coordinamenti provinciali ogni provincia il suo coordinamento ogni coordinamento coordina appunto e quindi dirige in qualche modo fa da stampella al lavoro che fanno quotidianamente i ragazzi nei presidi e nelle scuole e negli altri luoghi dove dove c'è attività sociale diciamo. Roberto sul lavoro che fai quotidianamente con Libera arriveremo dopo quello che mi interessa capire subito all'inizio è la situazione veneta quando noi parliamo di Veneto di criminalità organizzata ancora oggi ancora dopo gli arresti che non dico che siano quotidiani ma sono settimanali o mensili cioè ce ne sono molti adesso spesso si sente parlare ancora di mele marce in un ambiente sano per la tua esperienza è veramente così ma guarda noi abbiamo fatto una grande inchiesta a livello nazionale e naturalmente anche in Veneto e proprio sulla percezione del fenomeno della criminalità organizzata cioè della presenza mafiosa nel luogo dove abiti parlo all'intervistato in questo in questo caso ed è solo risultato dei dati direi sconfortanti perché circa la metà dei cittadini veneti che abbiamo intervistato ritengono che il fenomeno della mafia sia un fenomeno di secondo piano che in qualche modo non riguardi tanto la nostra regione tanto meno riguarda il luogo dove io abito dove io lavoro o dove io comunque faccio comunità è chiaro che questa inchiesta l'abbiamo fatta prima che ci fosse questa ondata di arresti ma quando c'è stata l'ondata di arresti a cominciare da Eraclea noi abbiamo scoperto una grande sofferenza una grande ambiguità e noi non ci siamo stupiti di quello che stava accadendo perché sappiamo che erano anni che c'erano inchieste in atto io personalmente a Eraclea c'ero stato già da due anni a incontrare le persone del luogo e la presenza mafiosa ti dirò la si sentiva quasi come si sentiva in certe zone del sud e come quasi come l'ho sentita però nella percezione nel momento in cui siamo andati a liberare un bene confiscato proprio qui in Veneto che è a Salvaterra di Badia Polesine quando mi sono avvicinato la prima volta a questo bene abbandonato le tendine delle case vicine si aprivano appena appena per fare intravedere la persona che c'era dentro che probabilmente si stava domandando ma chi sarà il mafioso che torna a guardare il bene che gli è stato confiscato quindi c'è una falsa cognizione, una falsa interpretazione del fenomeno e soprattutto parte da una scarsa conoscenza ma soprattutto non ci rendiamo conto che le mafie sono cambiate le mafie non sono più quelle che ci vengono dai famosi stereotipi della lupara e della coppola in testa le mafie sono tutta altra cosa, si sono insinuate nel nostro sistema economico quando all'interno di quella grande inchiesta effettivamente abbiamo cercato di intervistare anche il mondo dell'impresa veneta in molti casi ci hanno dato quella risposta ci hanno detto si se c'è qualche mela marcia va tolta non riguarda la mia categoria in particolare e riguarda comunque gli altri a cui viene sempre rimosso si è passati dalla negazione del problema si negava che ci fosse la mafia in Veneto adesso si ammette che ci sia ed è già un grande passo avanti ma ancora non si hanno gli strumenti per poter analizzare bene il fenomeno mi ricordo che c'era stata una precedente visita della commissione parlamentare antimafia parlo di circa 20 anni fa in Veneto la relazione che concludeva questa inchiesta della commissione parlamentare antimafia diceva adesso non ricordo bene le parole ma diceva che il tessuto economico sociale e culturale Veneto è tale per cui la società veneta è in grado di sviluppare gli anticorpi affinché il fenomeno mafioso che allora non si vedeva non possa attecchire nella nostra regione quindi o era sbagliata quell'inchiesta oppure è cambiato qualche cosa è cambiato qualche cosa al punto tale che il famoso inquisito nell'operazione Serpe dichiara noi siamo avvenuti in Veneto forse perché voi siete più disonesti di noi sono tanti ragionamenti da fare in relazione a come sono saltati dei rapporti probabilmente dei rapporti di comunità che noi pensavamo di avere e nello stesso tempo però quella piccola media industria quella impresa familiare quella industria diffusa in Veneto era anche probabilmente permeata di qualche cosa di diverso di una propensione all'evasione fiscale all'illusione contributiva ed è chiaro che allora se c'è questo aveva ragione Rita Atria nel momento in cui diceva scrivendo al giudice Borsellino che era stato ucciso caro giudice Borsellino prima di sconfiggere la mafia occorre che facciamo un esame di coscienza che guardiamo bene dentro di noi e solo quando avremo sconfitto la mafiosità dentro di noi allora saremo in grado di battere la mafia Roberto tu hai parlato di una categoria che è quella degli imprenditori che dalle ultime inchieste mi viene a dire che è la categoria fondamentale su cui fare un ragionamento molti di loro una volta che si sono trovati implicati in determinate faccende chiamiamole così hanno risposto con un non sapevo che erano quelle persone non mi ero reso conto secondo te è veramente così oppure rientra il tema dell'omertà intanto c'è da dire che finalmente questo muro di omertà che c'era ha cominciato a fare queste dichiarazioni io non credo tanto nella ingenuità delle persone faccio un esempio è come quando nell'inchiesta su eraclea si delineò questo fatto e cioè che una ragazza in tesi di laurea ha già stata rubata la tesi di laurea e il papà della ragazza è andato dal direttore di banca dicendo hanno rubato la tesi alla ragazza il direttore di banca ha detto non ti preoccupare il giorno dopo la tesi è magicamente riapparsa evidentemente quando ci si rivolge questo direttore di banca chiaramente sappiamo a chi si è rivolto si è rivolto possiamo anche fare il nome a quel signor donadio che era un po il vertice ad eraclea allora quando ci si rivolge alla criminalità organizzata e non allo stato beh c'è qualche cosa che non funziona e continuerà a non funzionare è chiaro che è difficile perché c'è stata la crisi economica c'è stata la stretta delle banche ci sono stati più di 80 in piccoli imprenditori che si sono suicidati in veneto e anche su questo io più volte ho ripetuto che anche in commissione parlamentare antimafia ho ribadito che occorrerebbe ricercare un po di verità anche in questi in questi suicidi di cui non si sa non si sa niente si sa soltanto che sono stati strozzati dalla crisi però nel momento in cui c'è la recessione è più facile l'imprenditore che ha bisogno di liquidità e magari la sua azienda non è in crisi ma è solo in crisi di liquidità perché non sta incassando i crediti che vanta questo probabilmente ha inciso ha inciso molto ed è difficile chiaramente per una persona che è sola di fronte a tanti problemi riuscire ad avere le idee chiare la mente chiara però ripeto se non ti rivolgi alle istituzioni cioè allo stato che ti deve proteggere ti deve difendere ma ti rivolgi ad altri canali è chiaro che tu in qualche modo legittimi questo tipo di appartenenza che già in parte è stata legittimata attraverso attraverso gli interventi nelle attività nelle relazioni sociali delle piccole comunità ricordiamo che questi hanno anche finanziato le squadre di calcio le sagre paesane e quindi si è creato un clima in qualche modo di accettazione di questi personaggi e nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che abbiamo presente in Veneto ormai la terza generazione di una mafia che era nata in Veneto che è la mafia del Brenta che poi è stata sconfitta ma i personaggi i protagonisti di quella stagione adesso tornano in circolazione perché finiscono la detenzione e comunque i loro figli sono integrati nel nostro sistema economico nel nostro sistema sociale e quindi occorre prestare la massima attenzione attraverso attraverso un'operazione culturale di che guardi bene anche il presente che non guardi solo al passato perché per poter fare un passo nel futuro con l'analizzare bene il presente chiaramente roberto tomasi diciamo che non è automatico il fatto che i figli di queste persone vadano a delinquere immagino che tu non voglia dire questo però hai detto una parola fondamentale che è cultura dalle tue parole mi sembra di capire che manchi una cultura della legalità vedi e anche questo è difficile perché la parola legalità è un po' una parola abusata ormai la usano tutti in tutte le salse è chiaro che l'obiettivo l'obiettivo di Libera è la legalità lo diciamo in tanti in tanti modi ma occorre anche andare in qualche modo a rinverdire a rinfrescare il significato delle parole perché nel momento in cui parliamo di legalità ma la legalità non è l'obiettivo l'obiettivo è un altro la legalità è uno strumento per arrivare alla giustizia sociale perché se non abbiamo la giustizia sociale quindi una riduzione poi dei diritti delle persone questi spazi vengono occupati da altri inoltre c'è da dire un'altra cosa che questo strumento la legalità per arrivare alla giustizia sociale ci sta di mezzo un'altra cosa e cioè nel momento in cui si parla di legalità si parla di applicazione delle leggi però dobbiamo anche domandarci tante volte ce lo siamo domandato in questi anni se tanti provvedimenti decreti e leggi sono legittimi perché nel momento in cui si fanno delle leggi ingiuste o a partire dalle leggi ad persona ma anche arrivando alla questione che riguarda i migranti e che riguarda il soggiorno in Italia ci dobbiamo fare tante domande rispetto a questo e quindi occorre proprio l'operazione culturale sta nell'andare a fondo anche di questi concetti per trovare una rigenerazione del significato delle parole e trovare un nuovo vestito nei rapporti di comunità. Roberto Tomasi questo è il lavoro che Libera fa quotidianamente questo è il lavoro che fai anche tu Libera, coordina ed è fatta anche da ragazzi mi viene da dire che mai come adesso le nuove generazioni vogliono prendere in mano il proprio futuro secondo te per la tua esperienza vale anche nel tema della richiamiamo legalità o come hai detto tu giustizia sociale o solamente il tema dei cambiamenti climatici è così forte da smuovere i giovani? Ma vedi sono collegate le cose nel senso che la sensibilità dei giovani oggi si è mossa creando un grande movimento mondiale per quello che riguarda la giustizia climatica però non possiamo non possiamo non ricordare anche fatti concreti che ci riguardano pensando al veneto non c'è solo la tempesta vaia che ha distrutto i boschi non c'è solo lo scandalo del mose che ancora adesso dopo tanti anni è ancora uno scandalo e questo questa parecchiatura non sta funzionando ci sono c'è un ragionamento da fare sul bene comune e sull'uso del bene del bene comune perché se non facciamo un ragionamento ampio rispetto a questo che non riguarda solo i beni confiscati ai mafiosi riguarda anche quello assolutamente perché vanno restituiti alla collettività ma riguarda anche tanto bene comune che è inutilizzato oppure tanto bene comune che viene deturpato attraverso l'occupazione di suolo pensiamo semplicemente al proliferare di capannoni che c'è stato in veneto negli ultimi vent'anni dopo andiamo a scoprire che tanti di questi capannoni sono stati riempiti di rifiuti magari tossico nocivi poi prendono anche fuoco e quindi questo evade diciamo lo smaltimento che dovrebbe essere uno smaltimento lecito e secondo le vie legali di questi rifiuti ma è anche la natura stessa che poi si vendica perché quando è venuta la tempesta vaia nel bellunese il piave era costellato di tante piccole centraline private che sottraevano acqua che era acqua bene comune a quella natura in questo modo si è in qualche modo vendicata e spero che non venga che non venga più ripristinato lo stato delle cose come come adoro però un oculato un oculato utilizzo delle risorse oggi è fondamentale perché tanti anni fa ci interrogavamo sulle varie ipotesi tra cui c'era un'ipotesi Gaia per esempio c'era un'ipotesi che diceva che tutto si rigenera quello che la cultura deve andare ad analizzare è proprio un uso capitalistico delle risorse quindi un uso ad utilizzo privato invece che ad utilizzo collettivo e quindi nel momento in cui i giovani alzano la testa e alzano le braccia e dicono fermatevi noi le dobbiamo ascoltare dobbiamo fare un ragionamento molto molto serio su questo mettere insieme insieme tutti i problemi perché oggi non possiamo più tenere distinte la giustizia ecologica e la giustizia sociale sono parte dello stesso problema sono parte dello stesso sistema che noi dobbiamo affrontare non possiamo nasconderci dietro a tante affermazioni che si sentono anche oggi dire per esempio sulla plastica e su altre questioni dobbiamo prendere veramente il coraggio e qui chiaramente sono i politici che devono prendere il coraggio rispetto a questo non dimentichiamoci che tutti questi giovani che oggi si muovono saranno loro che poi pretenderanno il governo del bene comune e quindi occorre dargli questa possibilità e accompagnarli in questa possibilità Roberto abbiamo parlato di giovani fino adesso il 21 marzo 2019 Libera e le altre associazioni hanno portato a Padova 50.000 giovani e cittadini che hanno detto forte e a chiara voce no alle mafie no alla criminalità organizzata quella giornata è stata sicuramente un successo da tantissimi punti di vista che cosa rimane adesso però di quel 21 marzo? Beh di quel 21 marzo è difficile ancora adesso capire quello che è quello che rimane io giro molto il Veneto incontro molti molti giovani molte realtà associative molte realtà culturali e anche incontro anche i politici perché nel mio nel mio ruolo è doveroso anche incontrare incontrare un pochino tutte le categorie quello che rimane è intanto una speranza è una speranza perché a Padova non aspettavamo 50.000 persone ricordiamo che nei giorni precedenti si era diffusa la voce perché c'era stata l'ondata di arresti si era sparsa la voce che sarebbe stato pericoloso che bisogna tenere i ragazzi a scuola la risposta è stata di tutto altro verso è stata una risposta molto molto potente e quindi va comunque ascoltata noi ci stiamo riorganizzando ci siamo riorganizzati nei nostri territori sono nati la bellezza di nuovi presidi sono nati nuovi presidi e ci tengo a dire che sono nati nuovi presidi con un intento intergenerazionale cioè di dialogo veramente tra le generazioni quindi non sono solo più presidi formati da un gruppo di ragazzi giovani e inesperti ma sono ragazzi che si mettono in gioco confrontandosi con gli adulti confrontandosi con le associazioni e cercando di interpretare questo territorio io credo che dovessimo oggi spero che riusciremo a farlo riprendere quell'inchiesta che avevamo chiuso l'anno scorso forse troveremo delle sorprese in positivo rispetto a questo Roberto Tommasi ha parlato di intergenerazionalità questo mi fa venire in mente uno degli aspetti più belli e interessanti del lavoro di Libera che sono i campi estivi questo si unisce anche a ciò che tu hai detto prima sui beni confiscati facciamo intanto un passo indietro spieghiamo che cosa sono i beni confiscati e che cosa fa Libera lì con estate liberi e con altre iniziative per farla molto breve Libera nasce proprio oltre che l'impulso di reazione alle stragi nasce anche perché venga approvata una legge che è stata la grande intuizione di Pio La Torre che da buon siciliano aveva ragionato così dice togliamoci la roba cioè togliamogli i beni per i quali loro esercitano questa attività delittuosa ma siamo andati oltre Libera nasce con una grande sottoscrizione popolare come si faceva ai tempi in cui non c'era internet non c'erano questi strumenti un milione di firme raccolte perché questi beni sequestrati e confiscati ai mafiosi siano restituiti alla collettività e diventano bene comune questo è stato una grandissima vittoria un grandissimo stimolo e allora nascono al sud le prime cooperative di Libera Terra che sono cooperative formate da ragazzi formate da giovani che hanno la voglia di riscattare questi beni di far vedere che è possibile un'altra economia un'economia purita e attraverso questo modo di relazionarsi cambiare anche quel territorio e tanti di questi territori sono anche cambiati rispetto a questo poi i beni confiscati ce ne sono anche a nord questa è la prova se qualcuno ancora avesse dei dubbi di come le mafie siano effettivamente a nord ce ne sono in Veneto tanti ragazzi veneti centinaia di ragazzi ogni anno siamo la terza regione in Italia come partecipazione ai campi estivi di formazione e di impegno e alcuni si tengono anche in Veneto ricordo Erbe che è la base regionale scout adesso ed era il bene di un trafficante di sostanze stupefacenti collegato alla camorra penso a Campolongo Maggiore anche qua però vorrei lanciare un appello al sindaco di Campolongo Maggiore perché ho sentito che il consiglio parte del consiglio comunale di Campolongo Maggiore sarebbe intenzionata a cedere la villa che era di Felice Maniero che è stata utilizzata per anni come bene comune di cederla come stazione dei carabinieri ecco forse qualcuno si dovrebbe anche un po' informare su come avvengono queste cose perché bisognerebbe dire che la dovrebbero restituire all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati perché però è di proprietà del Comune sarebbe molto bello che invece tornasse a essere un faro per quanto riguarda la vittoria sulla mafia del Brant e le possibilità che ci sono di resilienza anche all'interno della popolazione la bella notizia è che dicevo prima a Salvaterra di Badia Polesine lì ci abbiamo messo anni ad avere il riutilizzo sociale di questo bene l'anno prossimo finalmente si farà il primo campo di estate liberi anche a Salvaterra di Badia Polesine questo credo che sia una veramente una bella notizia e che ha bisogno un pochino del supporto di tutti noi Roberto hai detto un'altra parola fondamentale la formazione secondo te è ancora utile fare formazione su questi temi? vedi quando c'è stato un convegno a Padova pochi giorni fa erano presenti il procuratore di Venezia ed era presente il prefetto di Venezia e io ho sentito due affermazioni che mi hanno fatto rissare i capelli noi l'anno scorso alla chiusura della giornata che avevamo fatto a livello regionale perché fino all'anno scorso per alcuni anni c'era la giornata nazionale poi ogni regione organizzava la sua giornata a conclusione di quella giornata noi abbiamo avuto un incontro con la Municipalità di Mestre Venezia terraferma si chiama così e abbiamo chiesto che questo incontro venisse fatto all'isola del Tronchetto proprio per dare un segno molto forte perché l'isola del Tronchetto oggi è ancora in mano alla mafia soprattutto per quanto riguarda il traffico e la dislocazione dei turisti stranieri che sono migliaia e migliaia ogni giorno che arrivano a Venezia la risposta fu che il giorno dopo ci fu un ride di 200 carabinieri nell'isola del Tronchetto e non è questa la strada da seguire non è abbastanza mandare per un giorno 200 carabinieri a fare il giro dell'isola perché tu non hai risanato l'isola in questo modo e allora sentire il prefetto di Venezia che in questo convegno dice che finalmente ci sono stati gli arresti e quindi è stata estirpata la criminalità organizzata da Venezia ti fa rizzare veramente i peli sulle braccia perché vuol dire che non hai la conoscenza che dovresti avere del problema o comunque sei superficiale rispetto a questo. Nello stesso tempo sentire parlare da un'altra autorità come il procuratore il quale ha affermato le inchieste e gli arresti lasciateli fare a noi che è nostra competenza certo gli arresti li fate voi ma ha aggiunto non è necessario fare formazione nelle scuole ed è anche costoso ecco questa è un'altra affermazione che direi quanto meno è scandalosa perché se noi non interveniamo a livello anche pratico se vogliamo se facciamo un discorso di domande di offerta finché c'è una offerta di illegalità perché c'è perché cresce una domanda di illegalità e allora noi andiamo voi operate pure sull'offerta di criminalità fate pure le repressioni che dovete fare gli arresti ma a me interessa tutto quel popolo che sta soffrendo tutte le persone che stanno soffrendo giovani e meno giovani e stanno soffrendo perché sono vittime della tratta di esseri umani perché sono vittime dei traffici di droga perché sono vittime di ingiustizie sociali allora io vado su quel mercato perché va risanato quel mercato gli deve essere data la conoscenza giusta per capire bene i meccanismi e quindi conoscere 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 perché se no rischiamo veramente di rimanere quel popolo beota di cretini che non si rendono conto e a un certo punto ci accorgiamo che le vittime di mafia non sono solo i morti ammazzati ma lo siamo noi stessi ma ce ne rendiamo conto troppo tardi interi territori intere economie che sono inquinate e che saltano e che passano di mano non sono più in mano come bene comune della collettività ma sono in mani di privati che poi ti fanno pagare il conto Roberto noi ti ringraziamo molto abbiamo iniziato a tentare di capire qualcosa in più del nostro territorio e di come la criminalità organizzata l'abbia di fatto inquinato grazie ancora Roberto e buon lavoro grazie a voi grazie a voi